Verrà inaugurata questo sabato la nuova sede sociale dell'Associazione Una Pagani Migliore in via Zito numero 44. In occasione del taglio del nastro, il gruppo di giovani cittadini presenterà le diverse iniziative che animeranno il neospazio sociale, da laboratori a seminari, passando per i servizi che l'Associazione intende svolgere in maniera totalmente gratuita, a partire dal doposcuola sociale, e poi biblioteca, aula studio, sportello di ascolto, sportello a sostegno delle donne vittime di violenza, servizio di assistenza di caffè patronato, infopoint del canile cittadino, corsi di chitarra, pianoforte, tamorra, banco alimentare, consulenza legale gratuita, corsi in inglese, francese e tanto altro ancora. Il nostro obiettivo è quello di effettuare una serie di servizi che vadano a spaziare dalla consulenza legale gratuita, all'aula studio, al doposcuola sociale, creare un punto di riferimento culturale, aggregativo e sociale, dove i cittadini paganesi possano venire, possano scambiare quattro ghiacchiera anche con i membri dell'Associazione e soprattutto possano usufruire di quelli che sono i tanti servizi e delle tante attività che poi andremo a mettere in campo, come anche corsi di chitarra, corsi di pianoforte e perché no, cercare sempre di più di incrementare tutti questi servizi e di dare una possibilità ai cittadini di migliorare quella che è la loro vivibilità. Molto soddisfatti perché è un passo davvero molto importante, l'inaugurazione della sede, l'approdo in questa nuova sede è veramente un passo che abbiamo sperato con tutto il cuore e che abbiamo portato avanti con tutte le nostre energie e con tutte le nostre forze. Invidiamo i cittadini sabato alle ore 18 all'inaugurazione della sede che sarà in via Alfonso Zito 44 e quindi potremo pure ascoltare il nuovo programma che sarà presentato a tutti i cittadini e a tutti i giovani paganesi. Noi siamo un'associazione aperta a tutti, sia ai tanti ragazzi della città che ai libri professionisti. Infatti per chiunque avesse intenzione di darci una mano lo può fare semplicemente contattando i membri dell'associazione o alla nostra pagina Facebook.